allora buongiorno buongiorno a tutti io sono come al solito sono il dottor max mio nome originale diciamo che uso è massimo guerrieri poi per la trilogia ho utilizzato massimo michele guerrieri anche sul mio sito di youtube perché ci sono molti massimo guerrieri molti di loro hanno scritto libri hanno fatto cose quindi per non creare confusione adesso mi chiamo dottor max così ci sono praticamente solo io e si fa una cosa si si taglia la testa al toro per me oggi è una bella giornata qua in tanzania devo dire che fa un tempo abbastanza anomalo perché in genere qui siamo ancora in estate quindi dovrebbe essere caldo ventilato comunque sempre abbastanza caldo quest'anno invece un anno così non so se come si chiama un anno bis e stilo insomma si chiamano e sono è un anno in cui piove molto primi due anni è stato un tempo fantastico evidentemente adesso scarica tutta l'acqua che non ha fatto nei due anni precedenti ma oggi è sabato e parliamo di oro allora io do benvenuto a tutti sto lavorando sul computer che mi sembra funziona un pochino meglio la linea funziona ecco qualora magari se dovesse perdere la linea se me lo segnalate in qualche maniera come la voce va e viene a che volta c'è poco da fare dunque allora oggi non ho preparato niente però vi devo aggiornare su delle cosettine lunedì scorso ho fatto un intervento su fuori dal pentolone con flavio l'ho caricato sul mio canale youtube come sempre salvato come adutti e dico poco forse dopo un'ora era già stato rimosso da youtube e io mi sono chiesto mamma mia ma che cosa ha detto no in quell'intervento perché youtube in maniera così sollecita mi ha poi rimosso il canale e sono andata a riascoltare il l'intervento ed effettivamente sono intervenute delle persone che hanno detto delle cose che non si possono dire vedete come funziona mia media di massima non bloccano mai perché io cerco sempre di dire le cose in una certa maniera purtroppo temo che il video sia stato rimosso per quella ragione però chi lo vuole a disposizione per fortuna youtube telegram non è ancora sotto censura così come lo è youtube e quindi l'ho caricato poi su vari canali adesso praticamente tutti i miei video e tutte le insomma le informazioni grazie anche a flavio vanno su ovviamente consulenza oro destinazione tanzania destinazione estero fuori dalle banche fuga dalle banche fuori dal pentolone e quindi e quindi devo ringraziare molto flavio perché è l'unico che mi dà spazio in questo momento dunque per il rapporto appunto che ho con flavio stiamo pensando a creare un canale che possa essere una sorta di canalizzatore di catalizzatore scusatemi di tutti di molti altri canali quindi stiamo 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 pensando a un nomignolo a un nome che poi possa appunto come posso dire convogliare tutti gli scontenti tutti coloro che stanno pensando un piano b che sono ovviamente novax in questo canale per poi dargli appuntamenti di sera e fare questi interventi sempre possibilmente a 360 gradi con la possibilità veramente di dire quello che si vuol dire devo stare molto attento adesso a quello che carico su youtube perché intanto per due settimane non posso caricare niente però se non faccio il bimbo bravo e carico qualcosa che non gli piace e non piace all'intelligenza artificiale e per i nei prossimi tre mesi mi bloccano continuamente il canale cioè me lo bloccano morto quindi per i prossimi tre mesi io non posso fare non posso caricare niente su youtube mentre tutte tutti i video tutti gli interventi quello che facciamo saranno caricati appunto su telegram sperando che questa libertà condizionata possa continuare per un certo periodo ricordo che mi sembra il 27 di febbraio entra il 14 entra in vigore la nuova normativa europea per cui ci sarà un'ulteriore stretta benissimo mi fermo qua per dirvi adesso un'altra cosa sto caricando un po' di immagini e il video famoso che abbiamo fatto a monaco eh durante l'intervento la visita all'evento di Avesta scusatemi di ritardo purtroppo questi sono i tempi europei che come ho spiegato in passato già precedentemente se te fai organizzo un evento insomma importante no un evento così eh un'azienda organizza un evento così dopo due o tre giorni il materiale a disposizione viene magari caricato sui vari canali siti eccetera purtroppo in Europa le cose non funzionano così e quindi abbiamo appena ricevuto due o tre giorni fa ehm le immagini le foto i video che naturalmente sono stati molto ben curati però mi scuso del ritardo ma purtroppo le cose funzionano in questa maniera qua va bene? allora ci sono naturalmente altre cose no molte cose di cui possiamo parlare vi chiedo però se avete domande ovviamente saluto tutti eh se avete domande così almeno iniziamo a parlare di un qualche cosa so che Duilio ha preparato una serie di domande per me non so Duilio se vuoi iniziare prego ah sì ciao 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 buongiorno a tutti come state e dunque il vediamo se riesco a farla il denaro denaro fiat dicono che è lo sterco del diavolo no? mentre l'oro è ha questa divinità oro rossa e tutto quanto e e quindi cosa c'entra l'abis con l'oro con la stampare le monete e tutto quanto ecco cosa alla fine la moneta il la carta finirà tutta completamente e lì ci sarà ci sarà l'oro e se poi non aggiungo nient'altro insomma l'oro rimarrà l'oro ecco allora non ho argomentata bene però era questa la cosa va bene Duilio benissimo ti ringrazio ti ringrazio la domanda che è comunque molto interessante perché mi dà la possibilità di parlare magari ancora un pochino della bis e del probabilmente del valore intrinseco dell'oro no? io ne ho già parlato diverse volte a questo proposito oltre a quello che ho già detto vi posso leggere un commento che mi hanno fatto su uno dei miei video no? in cui parlavo appunto dell'oro e un signore praticamente mi dice io mi occupo di esoterismo e di altre cose e l'oro rappresenta il plesso solare e l'energia vitale in quanto collegato al sole la parentesi scrive l'argento invece collegato alla luna chiusa parentesi più ne possiedi quindi dell'oro più accresci la tua energia vitale questa definizione se si vuole si può usare a completamento di quello che ho già detto io sull'oro quindi l'oro per l'oro per l'elite ha un alto valore spirituale e rappresenta probabilmente l'energia più ne accumuli e più aumenti la tua energia vitale quindi praticamente più a lungo vivi in un certo senso diciamo così è una cosa molto figurata secondo me è una cosa molto più mentale che ovviamente pratica però dal punto di vista esoterico ricordiamoci che l'esoterismo non è possiamo chiamarla una scienza no? una scienza prettamente massonica no? no l'esoterismo diciamo è utilizzato un po' da tutti da tutte le organizzazioni tutti gli ordini iniziatici diciamo così anche quelli religiosi contrariamente a quello che si può pensare per quello che riguarda la bis la bis è considerata la banca delle banche che però devo fare una correzione la bis non stampa soldi no la bis non stampa assolutamente niente è una banca che è stata costituita nel 1920 da Charles Marshall il direttore della banca centrale tedesca il governatore perché oggi si chiamerebbe governatore e da Norman che era il governatore della banca di Londra ora si sa bene o perlomeno si dovrebbe sapere che dal mi sentite? scusami Andrea ho il microfono aperto mi pazienza ti chiedo di dirlo dal 1686 la banca di Londra è stata la prima grande banca centrale Andrea abbi pazienza il microfono aperto Andrea non è presente lo chiedo io è stata la prima diciamo grande banca dopo la rivoluzione di Cromwell che è stata finanziata dai Rothschild ovviamente è stata creata la banca centrale britannica diciamo così e quindi insomma anche adesso si può immaginare che la banca centrale britannica così proprio come quella francese di sicuro sono controllate dagli stessi gruppi e abbiate attenti a come solito come si dice come si dice sennò poi si incorre nella censura però la banca la visse si dita nel 20 non è una banca che stampa valuta è oggi considerata nel corso degli anni quindi dal 20 no nel corso di questi 104 anni è considerata la banca delle banche ed è a mio avviso la banca nella quale è stata immaginata la moneta digitale in un certo senso almeno dal punto di vista poi diciamo così di software perché una delle delle competenze più importanti che ha la banca la banca delle banche quindi la vischia sia da Basilea in Svizzera è quella di formare le banche centrali e quindi formando gli addetti delle banche centrali deve fornire anche tutto il supporto tecnico quindi software i computer tutto quello che serve e tutto quello che servirà per la gestione della del del diciamo degli scambi quando saremo in in regime di moneta digitale a questo proposito ho preciso quello che secondo me è la situazione che si verrà a creare molti mi hanno detto si va verso una moneta unica no no non si può andare verso una moneta unica almeno nel breve periodo per due ragioni la prima è che ogni nazione comunque sia gelosa della propria moneta e anche a livello di governatori centrali secondo me che si riuniscono adesso ogni due mesi a Basilea c'è un accordo per cui non è tanto l'importante avere una moneta unica ma è l'importante avere un sistema di controllo e di scambio unico andrei alzato la manina ti do la parola fra due minuti finisco e ti faccio parlare la seconda ragione è quella che si dimentica quello che si chiama forex cioè che è quel sistema per cui poi noi si deve cambiare delle monete e si va al cambio monete no all'exchange e si cambia le monete è un controllo che quasi da sempre va da memoria per quello che ricorda detto Justys Mullins è sotto il controllo dei banchieri di Warburg che ricordo sono di origine veneziana fra l'altro si sono trasferiti in Germania mentre a Francoforte hanno creato la house di Warburg che si sono specializzati nel forex siccome loro amano fare soldi e ne vogliono fare ancora di più non è che possano abbandonare tutto perché qualcuno adesso viene con l'idea di creare una moneta unica no perché loro andrebbero immediatamente fuori business e quindi questa cosa non sa da farsi e non si fa allora per il momento mi fermerei qui potrei dirvi altre cose sulla BIS magari continuiamo più tardi Andrea hai alzato la manina volevi fare una domanda? mi sa che Andrea ha alzato la manina per sbaglio per errore fa niente buongiorno Luciano altrimenti saluto tutti allora continuiamo il discorso adesso sulla BIS perché è molto importante la BIS è quindi una banca che è stata costituita nel 1920 e Shalman Shack ricordo quindi governatore della Germania nel 1920 considerava la BIS la sua banca questa banca qui originariamente fu costituita era più un istituto di mediazione all'inizio che una banca perché fu costituita per gestire le famose sanzioni che vennero segnate alla Germania con la sconfitta della prima guerra mondiale dobbiamo ricordare che la Germania non ha perso la prima guerra mondiale come spiegato nel capitolo 4 credo in maniera abbastanza chiara però a un certo punto è stata messa in una situazione in cui con l'intervento dell'America che era pro Germania e che a un certo punto cambiò direzione e decisero di affossare praticamente la Germania e di dargli tutte queste sanzioni va bene? queste sanzioni la Germania le pagò come spiego io in diversi interventi solo per pochi mesi dopodiché siccome non poteva pagare si riunirono diverse volte prima col piano Young poi col piano Davis e cercavano di capire e discutere anche con gli americani come si poteva risolvere questa cosa e fu costituita questa bis proprio con l'intenzione di lavorare per gestire le sanzioni il problema delle sanzioni tedesche la Germania a un certo punto non pagò più queste sanzioni e tutti acconsentirono all'idea perché nel frattempo l'America aveva finanziato molto la ricrescita della Germania perché in quell'epoca si era creata la Federal Reserve quindi c'era un sacco di soldi a disposizione di metterci una pietra sopra in definitiva e la Germania non pagò più queste sanzioni benissimo a questo punto che cosa ne facciamo della BIS la BIS mi dica scomparsa la BIS questi istituti questo istituto che è stato costituito sin dall'inizio come trust quindi dovremmo chi mi segue dovrebbe aver capito che cos'è un trust completamente scollegato e indipendente dal governo svizzero che gli ha dato e gli ha concesso l'immunità quindi è come se fosse le Nazioni Unite cioè chi lavora all'interno di questi istituti fanno quello che vogliono non devono rendere conto a nessuno ha cominciato a fare un lavoro di intermediazione a livello di Nazioni e quindi hanno messo insieme tutti i vari governatori europei perché ricordo ma da memoria che la BIS è comunque stata costituita con i fondi del Belgio dell'Inghilterra della Germania della Francia e dell'Italia mi sembra questi cinque ci sono di sicuro e poi man mano si sono aggiunti gli altri nel corso degli anni quindi è diventata piano 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 nell'oscurità un po' un istituto si può anche chiamare banca con un'enorme quantità di oro di cui ho già parlato questo oro viene da questo oro viene anche dal risultato degli espropri della seconda guerra mondiale mi fate dire cose troppo dovreste un po' lavorare un po' di immaginazione però le ho dette queste cose qui sono ancora caricate sul sito in due interventi che ho fatto con Ubaldo Croce poi purtroppo non è più possibile è stato più possibile fare niente e quindi sono finiti lì sono finiti lì siccome l'oro all'epoca era molto importante sono ancora insomma si sta convogliato altro oro e quindi la BIS è una delle banche forse la banca più ricca d'oro al mondo tenete presente che questi dati non sono pubblici cioè non ce li dicono di fatto oggi è la banca che fa la consulenza a tutte le banche centrale mi fermerei qui in questo momento se c'è qualcuno che ha delle domande però è molto importante sapere queste cose qui o perlomeno diciamo di conoscerle e poi capire naturalmente le cose come vanno benissimo domande? ti volevo chiedere una conferma prego prego William vuoi parlare? si vai vai io? allora io avevo letto mi sembra che fosse proprio la BIS che la Norvegia alla fine della guerra la seconda guerra mondiale propose di scioglierla perché aveva partecipato al saccheggio dei tesori artistici e ovviamente anche oro presumo dei paesi occupati dal regime nazista Keynes in rappresentanza dell'Inghilterra si oppose ma erano in minoranza e allora propensero per chiedere un periodo di riflessione mi pare di 5 anni in quel periodo Roosevelt morì loro tornarono alla carica con Truman che consentì a mantenere la BIS corretto questo? questa storia? ma che è la allora io intanto intendiamoci io faccio riferimento ad un libro no io ho solo praticamente poi neanche un altro sulla BIS ma evidente il libro importante è quello che si chiama la torre di Basilea va bene scritto da questo attore mi sembra ciclosovacco e non ho trovato un'informazione di quel tipo ho trovato un momento ovviamente nel quale il management della BIS si trovò un attimo in difficoltà perché appunto lo scopo era quello iniziale quello di averla fondata per risolvere il problema delle sanzioni quindi una volta che era stato risolto quel problema ma lì si chiesero ma ne facciamo della BIS non serve più a niente poi sì effettivamente ci furono anche delle nazioni che presero una posizione molto critica per il discorso delle sanzioni insomma non delle sanzioni di questi spropri che fece la Germania però dovete capire che a quel punto il sistema nazifascista siamo già nella post guerra cioè siamo già in una situazione in cui siamo oltre il 45 quindi il nazifascismo era apparentemente già finito quindi tutte queste supposizioni che vengono fatte furono poi superate con l'idea che la Germania adesso era una nazione democratica e non c'era più ragione di pensare o perlomeno di penalizzare un'istituzione che invece comunque sia aveva fatto quello che doveva fare ecco e quindi continuarono continuarono per con questa politica che è in un certo senso per il miglior spiegato va bene va bene è andata via la voce ma 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 e quindi i vincitori riusciano a creare la vista di oggi è possibilissimo che sia immagino che immagino che appunto sia successo dopo 45 ecco questa situazione qua va bene va bene altre domande o commenti posso fare un'impressione posso sì no un'impressione no cercherò di parlare senza fare parti poi chiudere il canale dunque dunque se fanno quello che devono fare nell'ordine mondiale no quello che c'è scritto sulle georgia gainston sulla popolazione e quell'oro che poi avanzerà nei cavò nelle banche tutto quanto sarà ancora dei soliti note insomma per uso capione siccome ci sarà più i proprietari e quindi alla fine anche la moneta fiat alla fine del discorso lasso questa carta serve solo per comprare l'oros insomma l'occhio del questa cosa divina rimarrà sempre a loro ai grandi ai grandi so come dirlo ai grandi insomma ecco e niente alla fine si torna sempre lì ecco non so se è un'analisi giusta per il futuro cosa grazie o non sento più forse il mio telefono che non va no non si sente proprio problemi di linea è finito? sì l'uilio? ho cercato di evitare certe parole magari ho fatto un commento magari si è capito mi senti? vai e viene vai e viene l'uilio? 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 mi senti? parlare? questo momento si aspetta una esca e poi rientro un'altra in pazienza va bene via e ora continuiamo se vi sentite allora beh se si deve se si deve prendere per buono quello che ci dice web dovremmo infatti essere vicini alla fine del ciclo e questo ciclo prevederebbe che loro si riprendessero tutto no? è possibilissimo non soltanto l'oro sicuramente l'oro lo prendono e lo confiscano di sicuro soprattutto l'oro sfuso ne abbiamo parlato diverse volte soprattutto quello depositato in Italia perché in Italia non ci sono istituti o banche come quelli svizzere no? che ti permettono di insomma di metterlo lì depositarlo con una certa sicurezza tenete presente che le banche svizzere e sono un po' sotto l'ombrello della BIS no? perché essendo in Svizzera non è che sono banche non so dove spazio per il mondo sono un pochino sotto la legislazione svizzera che già le protegge molto e poi strizzano un occhio alla BIS non so se mi spiego ecco e quindi e quindi probabilmente sì si potrebbe andare anche incontro a una situazione nella quale loro si riprendono tutto è molto probabile però non drammatizzerei no? proprio oggi un amico mi ha mandato un messaggio in cui c'era questo che diceva senza citare web senza citare nulla perché questi non hanno proprio nella minima idea di quello che scrivono quando si fa una citazione importante bisogna sempre citare la fonte se no non ha nessun senso si riferiva evidentemente al lavoro di web e ha sparato là delle cose così allora tutto esiste adesso siamo al 2024 esiste l'agenda 2030 questo per certi aspetti deve essere un attimo anche una sicurezza per noi perché sappiamo che arriveremo comunque al 2030 in qualche maniera anche se con grandi difficoltà quindi non dobbiamo mai drammatizzare perché drammatizzare significa pensare in positivo in negativo che è quello che non dobbiamo mai fare noi dobbiamo eventualmente essere critici analitici ma mai negativi ecco tanto a pensare in questa maniera cosa risolve? non risolvi niente peraltro ha paura la paura ti blocca la paura non è una sensazione che ti fa ragionare di più casmai ti fa ragionare meno quindi dobbiamo star fuori da tutti questi annunci a otto colonne che poi dopo giorno dopo ne parla con nessuno e lavorare sul fondamentale effettivamente la direzione è quella lì l'abbiamo capito cioè la proprietà privata tendenzialmente scomparirà è per questo che io suggerisco per chi ha un minimo ancora di cervello di cominciare a ragionare sul problema patrimoniale io ne parlo ormai da messe in mesi ma in quanti mi hanno chiamato per analizzare una cosa così uno forse due ecco perché la gente preferisce ascoltare altri canali che fanno hanno un ascolto come questo qui per esempio di cui ho parlato anche la scorsa settimana di 2500 persone nelle quali c'è soltanto intrattenimento noi ormai siamo ci hanno inculcatto nel nostro hardware che è la nostra testa l'applicazione dell'intrattenimento noi lavoriamo esattamente come lavora un computer abbiamo un hardware che è la mente poi si può parlare si può chiamare memoria cervello come volete e poi ci sono tutte le app che ci hanno installato nel corso degli anni attraverso una cosa che io conosco abbastanza bene che è la pubblicità e la propaganda allora io so abbastanza distinguere quando si parla di propaganda quando è propaganda o quando è informazione vera purtroppo la maggior parte delle persone non distingue questa cosa e che ci posso fare io più che dirvelo non so che non so che dirvi anche perché poi la maggior parte di queste persone non dico tutti la maggior parte di queste persone che hanno questi canali anche su telegram che sono qui fanno là fanno su alla fin fine vi fanno un lavoro di giornalistico che non potrebbero nemmeno fare perché non sono giornalisti e vi chiedono soldi allora posso darvi un suggerimento veramente non date soldi a nessuno se proprio volete fare un'azione buona quella che io chiamo un'azione buona mi viene in mente la chiesa la dico sì andate in chiesa e fate le lemosi a un mendicante a qualcuno sì quella è un'azione buona quella di dare soldi a questa gente non lo è non generalizziamo troppo perché mai generalizzare troppo ci sono delle persone dei ragazzi giovani soprattutto che lo fanno in buona fede questo sì ci sono sicuro però come principio non mi fiderei di chi vi chiede soldi e di chi fa video con pubblicità nei miei video non vedrete mai la pubblicità successo una volta successo una volta con Ubaldo Croce non so per quale ragione se fu un errore suo o non lo so gli fece un casino della Madonna non ti azzardare più a mettere pubblicità sui miei interventi non so se fu un errore fatto così perché non ci deve essere pubblicità io non posso mettere la mia credibilità accanto a una pubblicità di mutandine o di biciclette o di preservativi come la maggior parte di loro fa per campare scusate se dico queste cose via voce alta ma è come se fosse un ragionamento che io faccio per conto mio adesso trasferisco a voi per tanto per farvi lavorare no? per farvi pensare sulle cose sono quasi tutti a disposizione e lavorano per il sistema non lavorano per noi e dico noi infatti sono quasi tutti iniziati o lavorano per i servizi altre domande? sì volevo dire no sono pienamente d'accordo il mio era un caso estremo ed era la riprova di quanto c'è un piano diabolico che poi alla fine arriverà fra cent'anni fra centocinquant'anni per l'amor di Dio bisogna sono d'accordo con te assolutamente che così era soltanto un discorso alla fine che vale solo l'oro insomma moneta fiat finirà e in ultima analisi per potersi difendere si salva chi ha qui a qualche soldo è l'oro l'unica cosa perché ce l'hanno anche l'oro ecco però sono proprio diebolici insomma ecco ok forza e coraggio grazie nonostante non condivida i mezzi perché nel corso degli anni il genere umano ha prodotto dei geni che hanno inventato delle cose ma purtroppo o sono stati fatti fuori o sono stati comprati oppure sono trovata anche delle situazioni che magari non sono stati fatti fuori ma sono stati messi in una condizione di non poter diciamo sviluppare la propria invenzione ecco queste invenzioni risolverebbero gran parte delle problematiche dell'esistenza umana nonostante quindi non sia d'accordo con i loro sistemi che sono anche abbastanza rudimentali secondo me non li posso piassimare più di tanto perché ne parlavo anche l'altro giorno con un amico purtroppo il livello di consapevolezza è troppo basso troppo basso quindi persone magari come me che cercano di fare il possibile continueranno però in quanti siamo oggi? quanti siamo? siamo 12 vedete la gente non è interessata ad essere informata è interessata ad essere intrattenuta tant'è che in maniera molto provocatoria il canale che vorrei creare con Flavio è un canale sarebbe come è venuta questa idea un canale di genere completamente diverso e lo vorrei chiamare il canale dei gossip perché tanto io sono convinto che se ci mettiamo a parlare di tutte queste gossip sapete cosa sono gossip sono tutte quelle cose che vedi sui giornali scandalistici come si chiama quello lì che si chiama Corona che ha denunciato i cacciatori oppure insomma queste subrette sempre su novella 2000 e ottengo un ascolto di 2200-2500 persone nel giro di meno di un mese il sistema funziona così quindi bisognerebbe tirarsi su tutte le maniche e cominciare a fare ognuno il proprio però vedo ancora troppa troppa staticità poca azione sia per quello che riguarda il piano B sapete che mi occupo anche di un piano B sia per quello che riguarda loro tutti li ascoltare sentire senza considerare il CTZ che è assolutamente necessario ad essere disponibile non so se sarà disponibile in due o tre mesi non lo so perché anche qui le cose cambiano io vado avanti però se dovessi giudicare dal feedback bisogna avere sempre un atteggiamento positivo va in feedback è quello che è altre domande? sono sempre io però non so se posso continuare a fare vai vai dunque ho notato una cosa che non mi sapevo dare spiegazioni io che era così ma non sapevo in che maniera potevano gestire questa cosa cioè dunque sono arrivati i telefonini una cosa militare ma che ce l'avevano già loro in mano da diverso tempo adesso invece si parla sempre di questa intelligenza artificiale che sarà il futuro e tutto sarà controllato da questa cosa e quindi questa sincronicità quando c'è stato il covid o tutta la gente che parla e dice i diversi aspetta un termine giusto le diverse persone che comandano che parlano tutti dello stesso argomento tutto nella stessa maniera tutti con un certo filologico probabilmente l'intelligenza artificiale era già attiva qualche anno fa insomma e abbiamo visto nel esperimento covid diciamo che l'esperimento vidoc scusa che ha funzionato la sincronizzare il tutto può essere o è fantasia? grazie beh diciamo che la tua analisi è un pochino agli estremi nel senso che dobbiamo vedere cosa si intende per prima io nella trilogia spiego che nel mi sembra 1913 qua da memoria scusate se sbaglio l'anno è stata costituita il consul on foreign relations proprio con l'obiettivo di controllare tutti i media tutti sia quelli ufficiali sia quelli diciamo alternativi in America hanno fatto un grande lavoro in questo senso perché c'erano molte radio e molti editori indipendenti no? che stampavano magari certe cose eccetera e hanno fatto fuori tutti diciamo è voluto 40-50 anni però hanno fatto fuori tutti quindi quelli che sono rimasti e poi è successa la stessa cosa diciamo nei paesi industrializzati diciamo così sono tutti controllati da loro quindi all'epoca magari non era proprio un discorso di intelligenza artificiale ma era un discorso di indottrinamento e di censura cioè di dire no tutte le voci che cantano fuori al coro devono essere messe a tacere perché loro hanno risorse infinite possono comprare tutte e tutte non c'è un limite alle risorse che tolsi non fuori relation loro lì ci sono banchieri ci sono finanzieri e ricordo che è stato fondato grazie al supporto e all'appoggio di personaggi che sono poi risultati gesuiti quindi ricordatevi il proverbio che tutte le strade portano a Roma perché qualsiasi cosa di cui noi si possa parlare oggi se poi si va a vedere la storia la storia è una stradina che ci porta a Roma lasciate perdere la city di Londra Washington gli Stati Uniti sì certo molto importante però tutto parte da lì quindi non so se ti ho dato la risposta a Duilio è un commento più che domanda e risposta a questa qui però questo è come vedo le cose io e dall'epoca da quel momento lì in poi nelle nazioni occidentali è sempre funzionato in quella maniera lì magari queste organizzazioni queste associazioni tante volte si mascherano come istituti di studio e di ricerca quello più importante italiano ne ho parlato tante volte è quello che poi viene presieduto così da Fusaro tanto per non fare il nome va bene è un istituto di questi qui di loro dove fanno ricerca e negli altri paesi ce ne sono altri con diversi nomi che in grosso modo fanno sempre la stessa cosa giusto giusto è una bella questa cosa mi piace che si è parlato di come funziona parlavo degli ultimi tempi insomma di quando è scoppiato il video diciamo quindi Green Pass tutte queste cose e di come l'informazione diceva tutta la stessa cosa sembrava che ci fosse un'entità che adessi degli ordini a tutti e controllasse tutto ecco era questa sì ma certamente è un pociata a intelligenza artificiale no 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 ecco no ascolta ascolta in questo caso qui è più è più MK Ultra che intelligenza artificiale cioè esistono dei sistemi quello che si chiama MK Ultra per cui quando queste persone entrano a far parte di certe strutture di certi organismi e gli vengono fatte tutta una serie di trattamenti va bene a livello psicologico per cui poi loro sono dei semi robot delle persone che appunto vanno avanti che sono condizionati da tutti questi sistemi va bene quello che risulta dal punto di vista mio come persone capisce un po' che funziona la pubblicità del marketing è evidente che nel momento in cui vedi che viene programmata una pandemia e quasi immediatamente tutti i paesi del mondo si allineano ma lo sai quanto tempo ci vuole a fare una cosa così dal punto di vista organizzativo del marketing ci vuole vent'anni lì io mi sono accorto che c'era qualcosa che non funzionava immediatamente grazie all'esperienza nella pubblicità e grazie all'esperienza anche nella scienza perché noi abbiamo mai parlato di questa cosa non abbiamo mai parlato del settore nel quale sono veramente esperto io ho sviluppato una metodologia nel corso degli anni di 30 anni che prevede diciamo una certa conoscenza scientifica del corpo umano medico infatti ho studiato per circa 4 anni medicina all'università di Pisa poi ho deciso ho scelto di fare altre cose ma quello che hai studiato beh non male ti rimane e senza queste nozioni non avrei mai potuto pubblicare niente su di viste scientifiche oppure prendere brevetti come fatto in America e questo è chiaro ecco per dirti che un minimo di conoscenza naturalmente per capire le cose ti ci vuole ma poi quando ce l'hai fare uno più uno più uno è abbastanza semplice quindi allora ci hai avuto quasi 20 anni se non 25 per mettere insieme il sta pandemia che poi è scoppiata nel 2020 e 20-20 in numerologia pratica fa 40 e 40 è l'anno del cambiamento quindi dovete sempre guardare le date come tante volte se non conoscete un minimo di queste cose qui osservate gli eventi ma non non riuscite a capirle è un po' anche tutto nella teologia spiegato insomma grandi linee uno che legge la teologia acquisisce anche l'ABC della simbologia che è fondamentale per capire dove siamo da dove veniamo dove siamo e dove stiamo andando comunque state tranquilli che il canale che creerò con Flavio non sarà un canale questo vi posso assicurare sarà uno specchietto per le allondole per attirare le persone giusto? mi senti? mi sentite? venita sei te vero? no sinceramente noi non vogliamo fare nessun specchietto per le allondole la nostra missione è quella di aumentare la consapevolezza delle persone e nonostante io mi consideri in certi aspetti una persona che sa di marketing io quando faccio le cose non le faccio mai per attirare audience no ma lo dicevo in senso positivo eh Michele ah per farvi dire le persone e poi sì sì per senso sì spolto un attimino sulle parole però se qualcuno ha un'idea io non ce l'ho ci sto pensando ma devo comunicare stasera a Flavio il nome del canale no? certo come il nome come il nome se qualcuno ha un'idea me la comunichi pure eh perché io non ce l'ho ancora sinceramente ci devo ancora pensare volevo dire una cosa se posso dimmi 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 certo allora una considerazione vabbè tu sei hai precorso i tempi date anche le tue esperienze eccetera no? però per esempio io eh che no che mi sono svegliata parecchio più tardi ehm avevo notato questa cosa avevo avuto la pulce nell'orecchio delle prime pandemie no? tipo la viaria la Sarto 1 perché avevo sentito parecchia paura a un certo punto nelle comunicazioni come le facevano eccetera e poi quando ho visto che sparivano da un giorno all'altro i telegiornali non ne parlavano assolutamente più mi sono detta ma questa cosa qua che senso ha? cioè veramente mi è arrivata come una sveglia di quella cosa lì e ho capito che c'era qualcosa che non funzionava cioè che era assolutamente assurda una cosa del genere col senno del poi mi rendo conto che erano dei tentativi erano dei tentativi che fallivano no? finché poi invece abbiamo avuto il covid che è andato in porto ecco correggimi se la mia analisi è sbagliata ah non ho a correggere niente ti corretto soltanto quel termine che ti ho usato erano dei pretext si chiamano pretext ah quindi già si sapeva che non sarebbero andati in porto cioè non è che non andavano in porto certamente ah già si sapeva bene meglio ancora grazie sì certamente tutto fabbricato a tavolino eh scusa Max ecco sì proprio ieri sera parlavo con un'amica che ormai tre anni quattro anni insomma che gli parlo della trilogia e di come questi eventi che gli dicevo poco alla volta perché stava male quando gli leggevo la trilogia e adesso invece si è fatta lo stomaco quindi di come come fa a sapere tutte queste cose i guerrieri cioè le ha messe per iscritto e vengono tutte vere e lei mi fa e poi finisco è uno che ha studiato ha veramente studiato tanto per poter arrivare a fare un'analisi così ecco perché viene tutto vero quello che c'è scritto insomma ecco è stata bella la sua frase volevo dire cavoli ma Max hai proprio studiato tanto veramente per fare una cosa del genere perché non è da tutti va bene ho finito questo era un piccolo cameo perché ogni tanto ci riuniamo per vedere tutte le cose che vi ho letto tre anni fa e che stanno venendo vere ho finito grazie bravo sei stato bravo prego prego grazie intanto queste cose qui io le ho messe nel libro tre anni fa ma erano in rete forse 15 20 30 anni fa molte di queste cose erano in inglese dette da autori attualmente che voi non conoscete quindi in un certo senso io alcuni mi dicono che sono un extraterrestre io non lo so se è un extraterrestre credo di esserlo o se lo sono stato non lo sono dimenticato però purtroppo diciamo che è quello che loro hanno detto io non ho quasi detto niente nella filologia comincio magari adesso ad analizzare un pochino di più cosa che se Dio mi assiste farò nel capitolo 4 scusate non capitolo nel volume quarto e poi 4 è un numero che non è che mi dal punto di vista numerologico mi ispiri particolarmente ma purtroppo devo chiamarlo volume 4 perché dopo il 3 viene il 4 comunque a parte questo so che precorro un po' troppo i tempi e che quindi non mi posso aspettare che la gente sia pronta a capire quello che dico non c'è assolutamente problema lo saprò sin dall'inizio anzi in un certo senso mi meraviglio perché a parte la censura non ricevo nemmeno tanti insulti in linea di massima la prima reazione che fanno soprattutto le elite è quella che ti insultano ti denigrano invece la cosa che è noto è che mi ignorano che è un'altra cosa che almeno non mi offendo va bene va bene così fa parte del gioco perché ricordiamoci che è tutto un gioco è tutto un gioco il gioco può essere pulito o sporco ma è comunque un gioco la scacchiera la scacchiera che c'è in quei posti che sappiamo davvero però Alessio ho detto peccato che la gente muoia sul serio però sì certo pronto sì sì si può introdurre se fosse possibile introdurre un altro argomento qualcosa sulla residenza fiscale anche non adesso si potrebbe parlare della residenza fiscale e parlo volentieri mercoledì sera ora non posso non parliamo volentieri mercoledì ti colleghi parliamo senza problemi a me a me viene in mente un'altra domanda non riesco a fermarmi però la faccio vado vai tranquillo è sempre detto ai tempi comprate la trilogia ma guardate altri libri per vedere se dico la verità tra le cose che ho controllato ho preso il gioco degli illuminati le carte degli illuminati che sembrano una sciocchezza però ci sono tanti eventi che poi sono venuti vere del tipo il bidoc il torigemelle tante cose ecco non dico che sia vero però c'è una carta che parla di una faccia aliena cioè un uomo che non è terrestre che dà dei soldi che mantiene gli stati cioè ci sono delle mani che allungano con su delle bandierine dei vari stati e loro che danno come una specie di com'è che aveva fatto il durante la pandemia che dava il rito di cittadinanza ecco che dava così quella carta lì non sono mai riuscito a capire cosa poteva essere le altre anche prima non le capivo quando è successo ho visto che sono tutte giuste niente cosa quando nel 25 quando si paleseranno ci sarà questo magari questo tipo di o il 30 insomma o più avanti di aiuto sociale diciamo forse non so se hanno valore come cartelli degli illuminati grazie è possibilissimo è possibilissimo questa cosa che dici poi non è certo che nel 25 si nel 2025 si manifesterà intendiamoci io ho letto c'è un autore particolare che ne ha parlato però non lo so se quello che dice lei è vero o meno boh si vedrà sì le carte degli illuminati c'è stato un autore molto importante che come si chiamava che ne ha parlato molto che faceva parte di una delle famiglie degli illuminati che è morto recentemente l'ho seguito abbastanza perdonatemi non posso ricordarmi adesso i nomi di tutti e lui diceva che praticamente ogni carta degli illuminati ha una sua verità e ha un suo tempo poi ha fatto un'analisi abbastanza approfondita anche sul dollaro sul significato simbolico sui significati simbolici del dollaro e quindi sì c'è sicuramente sicuramente si è parlato già del radio di cittadinanza cioè questi nel mondo futuro molte persone staranno lì nella smart city a non fare niente a giocare tutto il giorno e saranno contenti così perché in realtà avranno tutto quello che gli serve per essere contenti gli daranno tutto quello che gli serve per essere contenti e la cosa più importante sarà l'iniezione la mattina con farmaco che è quello che li terrà tranquilli per tutta la giornata come si vede bene dal film la storia di John i bambini che nascono con particolari difetti verranno eliminati perché ovviamente proverà delle nascite che sussisterà sempre e quindi lì avranno già trovato tutti i sistemi per limitare la crescita delle nascite i colori che nasceranno saranno quasi bambini perfetti diciamo così non saranno dei bambini creativi perché la creatività non sarà più richiesta l'importante è che facciano i bravi e non rompano tanto le scatte questo è il mondo nel quale si sta sono in contatto dimmi chi sei dimmi di me no volevo dire quindi praticamente noi saremo come fossimo del del bestiame che tutti gli anni viene siringato con modificazioni appunto del genoma poi chi sopravvive diventerà transumano chi non sopravvive andrà ad aumentare il numero dei del depopolamento che tanto a loro gli va solo bene giusto? è corretta come sì nella linea di massimo è corretta è evidente che tutti coloro che si sottoporranno alle varie strafinizzazioni come le chiamo io avranno meno possibilità di sopravvivere soprattutto per un lungo periodo perché non dimentichiamoci che l'obiettivo principale è proprio la riduzione della popolazione se perdono di vista quello loro falliranno quindi questa è la cosa più importante quelli che invece avranno così anche l'intelligenza la scattrezza l'abilità di sfuggire a queste cose qui in realtà potrebbero avere una vita normale fermo restando che ci sono le scie chimiche ci sarà il 5G ora anche se uno non è vaccinato non occorre o stracchinato non occorre essere un genio per capire che essere sempre sottoposto a giornalmente a determinate radiazioni non faccia bene alla salute no è chiaro che non fa bene ormai si vive quasi in una gabbia di fare dai con telefono televisione computer sistemi elettronici in tutte le parti quindi il nostro organismo non credo poco che sia stato pensato per sopportare tutte queste radiazioni quindi purtroppo le persone ormai siamo in Iran siamo in Iran ma noi andiamo in Tanzania lontano da tutto abbiamo l'oro che rischerà e scappiamo ma ce la facciamo o cerchiamo di farcela hai creato anche la soluzione fantastico però ti devo confidare in maniera molto personale siccome non ci ascolta nessuno che qua porta soltanto miliardari non porta persone che non hanno soldi quindi magari non ci li ha sta scherzando sta scherzando sta scherzando però perché soldi ci vuole per venire qua vuole sempre non ha importanza in Tanzania o dall'altra parte piano B purtroppo il giorno d'oggi prevede delle risorse leggevo proprio un commento credo giustissimo che ha fatto qualcuno su destinazione estera parlando del Messico come pensano le persone pensano che io parli male di qui non parlo male di nessuno di quelle cose come sono dice vuoi venire in Messico o devi creare un'azienda per conto proprio o devi lavorare per qualcuno perché tutti quelli che sono venuti con soldi propri che poi non sono riusciti a lavorare per nessuno sono già rientrati in Italia quindi un po' di soldi quando vai all'estero ti serve non c'è niente da fare Messico o Tanzania non ti cambia niente anche qui vieni qui se devi lavorare come lavora in Tanzania non guadagni niente forse non ti assumono nemmeno devi essere molto pratici nelle cose bisogna purtroppo avere qualche soldo altrimenti è tutto più difficile non occorre avere grandi soldi però ci vuole tre cose motivazione qualche soldo e un po' di esperienza in quello che si fa se hai queste tre caratteristiche in una maniera o nell'altra da qualunque parte vai poi scegliete il paese ti inserisci ci vorrà un po' più tempo ma riesci a inserirti grandi difficoltà perché quando si va all'estero ci sono sempre delle non grandi enormi difficoltà che dobbiamo affrontare io ve l'ho detto che ho fatto ormai tre volte mi tamis sono andato a Svizzera sono andato all'America e sono andato in Tanzania abbiamo fatto un'ora se non ci sono magari altre domande chiudiamo qua ci aggiorniamo la prossima settimana ricordando il solito intervento appunto di lunedì che adesso decideremo il nome con Flavio l'appuntamento ovviamente di mercoledì avrei tante idee quindi si potrebbero creare tanti canali anche un canale per esempio sulla salute un canale su non voglio chiamarli sugli extraterrestri però su persone che hanno avuto esperienze molto particolari nella vita che sono quasi quasi tutti addotti che possono dirci sicuramente tante cose sono italiane americane sono tipo importante che ognuno di noi insomma dia il proprio contributo quantomeno nel veicolare il messaggio quantomeno è l'unica cosa che io chiedo sono l'unica attore in rete che vi offre la chirurgia gratuitamente che vi fa la consulenza oro gratuitamente che vi fa la consulenza patrimoniale patrimoniale gratuitamente se poi non vi piace quello che vi dico andate in altra parte non c'è mica nessun vincolo quando si decide invece di venire in Tanzania purtroppo siccome c'è un bel po' di lavoro da fare bisogna fare una piccola donazione perché se no altrimenti le persone mi chiedono io sto lì ore e ore a parlare al telefono e poi sinceramente non mi interessa fare un lavoro così bisogna anche essere un po' concreti in quello che si fa non tanto per i soldi quanto per la concretezza di lavorare su un progetto che poi è finalizzato a portare la persona qua se non si parla si parla si parla non viene fuori niente quindi questo intervento non potrà essere caricato sul mio canale di youtube almeno per due settimane poi devo stare molto attento per gli interventi successivi però sarà caricato ovviamente su consulenza oro su destinazione estero su fuga dalle banche su fuori dal pentolone in questo momento qua Massimo volevo chiedere se ti hanno dato una giustificazione se hai ricevuto una giustificazione da youtube rispetto al blocco del canale no nessuna giustificazione caprile anzi mi hanno detto che non è appellabile prima in genere è appellabile fare a pelle cercare di giustificare l'intervento mi hanno detto che non è questa volta mi hanno detto che non è appellabile che è il secondo strike che ottengo nei tre mesi e se ne ottengo un altro dalla seconda settimana cioè tra due settimane mi permetteranno di ricaricare delle cose di qui a tre mesi mi chiudono il canale questa è la democrazia funziona così ma tanto le sapo già che non è che mi dicano niente di purtroppo è successo che quante volte dai spazio a delle persone che dicono delle cose io evidentemente riascoltando tutto mi sono accorto che anche io mi sono un po' distratto ho lasciato parlare questa persona che ha intervenuto e ha detto delle cose che non si possono dire infatti non le dico mai cioè io sono un particolare tipo di linguaggio anche se magari può essere insomma abbastanza incisivo però è sempre fatto una scelta purtroppo molte persone intervengono non hanno parlano liberamente dicono delle cose e ruota libera bravo e non purtroppo credo non sono sicuro che sia stato quello il problema però l'intervento è disponibile se lo volete per fortuna è stato salvato e quindi non ci sono problemi cioè problemi solo su YouTube ma molti migrano su Rumble o su altre piattaforme non ti conviene Massimo sì in futuro può darsi che fatti anche quella cosa lì certo sicuramente almeno giochi d'anticipo lascia che ti chiudano tieni due canali ci sto già lavorando e cerco sempre di anticipare i problemi sai buongiorno buongiorno Max ti manderei privatamente una una questione per il prossimo incontro sulla Tanzania così poi tu puoi vedere un attimino cosa puoi rispondere a me e poi probabilmente potrebbe interessare anche altre persone ti ringrazio ecco l'ultima invece la precedente trasmissione sulla Tanzania dove la posso trovare la trovi caricata sul canale destinazione Tanzania ah perché non l'ho visto guarderò meglio guarderò meglio scusatemi se qualche volta scusatemi se qualche volta non sono così veloce a caricarle perché come sapete io vivo in una zona in cui internet funziona e non funziona e qualche volta faccio molta 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 fatica a caricare gli interventi però in quel caso se non li trovate me li richiedete e quindi magari io ve li mando anche se in formato audio tanto l'ascoltate lo stesso perché io devo salvare il formato video perché se no youtube non me li prende quindi preferisco sempre salvare video naturalmente l'audio è più facile da salvare io nei messaggi salvati ho i due format quelli in audio e quelli in video quindi ce li ho tutti è solo una questione così informale la sostanza è tanto sono comunque interventi audio quindi non occorre caricare intervento video è più facile e quindi ve li mando singolarmente vi do ve li inoltro inoltro così veloce al volo soltanto a chi me le richiede e non ci sono problemi benissimo bene si si va bene benissimo allora io siamo già arrivati in Italia sono le 10 e 12 io fra 10 minuti circa dovrò iniziare il solito training io se non vi dispiace avete altre domande e commenti chiuderei qua e appunto ci aggiorniamo per quello che riguarda l'oro la prossima settimana il mercato dell'oro cioè il prezzo dell'oro è ancora stabile ed è stabile sia per il discorso della Federal Reserve perché anche lì vanno avanti e indietro questi interessi no debita cresce interessi che vanno avanti e indietro anche loro secondo me non sanno bene quello che vogliono fare lo sanno quello che vogliono fare però magari a che volta non lo vogliono fare e poi perché per il fatto come ho spiegato che le banche centrali stanno ancora comprando oro e quindi hanno bisogno di tenere la sede di Londra hanno bisogno di tenere il prezzo dell'oro un po' contenuto proprio per favorire le banche centrali quindi direi che chi ha una mezza intenzione di approfittarne ecco approfittarne perché il prezzo dell'oro scilla dai 64 mila euro al chilo ai 65 e secondo me è un prezzo più buono ecco poi dopo queste operazioni qui come vi ho spiegato tante volte sarà molto più difficile farle benissimo allora io chiuderei qua curando il buon esempio prego prego grazie a voi a presto e ci risentiamo alla prossima grazie ciao buon fine settimana grazie ciao 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 ciao